La Nord-Sud o Strada dei Due Mari, lo scorrimento veloce tra Gela e Santo Stefano di Gamastra, che da quasi 60 anni attende il completamento, è stato oggetto della visita di consiglia del Vice Ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Il Vice Ministro ha effettuato in mattinato una ricognizione, la seconda nel giro di un mese nei cantieri dell'OTB della Nord-Sud. Nel pomeriggio nel lavoro consigliere del Palazzo Comunale ha relazionato, insieme ai vertici regionali dell'ANAS, Valerio Melle, responsabile della struttura territoriale in Sicilia ed Ettore della Granelè, responsabile delle progettazioni. Sui lotti B che collegano Nicosia a Mistretta la situazione è soddisfacente. I lotti B2 e B4B sono a buon punto. Il lotto B5, lo svincolo per Nicosia, vedrà la luce entro la primavera del 2023. Per il lotto B4A, rimasto indietro rispetto agli altri, entro il 10 gennaio, la ditta che sta eseguendo i lavori dovrà completare almeno due chilometri per l'innesto con il lotto B4B, altrimenti si va verso la recessione del contratto e l'affidamento dei lavori alla seconda ditta in gradutoria di assegnazione. Storia ben diversa per i lotti C che dovrebbero collegare Nicosia con l'innesto sulla A19 a Mulinello. La delibera della giunta regionale presiduta da Crocetta nell'aprile 2017 aveva declassato l'opera ed il progetto esecutivo già finanziato per 400 milioni di euro per il lotto C1 da Nicosia a Leonforte di 14 chilometri, ritenuto troppo oneroso e non conveniente secondo uno studio costi benefici. Il costo è stato calcolato inoltre un miliardo di euro per un'opera che verrebbe poco sfruttata e poco trafficata. Per questi motivi l'ANAS ha ripiegato su un progetto di riammodernamento dell'attuale asse viario con un costo che si aggira intorno ai 500 milioni di euro. Una soluzione che è stata dichiarata insufficiente dall'ex sindaco Antonio Catania, intervenuta al dibattito in quanto l'opera, secondo la sua opinione, non avrebbe quei costi preventivati dall'ANAS e di riammodernamento creerebbe un colo di bottiglia tra i due tratti del nord e sud già realizzati. Non della stessa opinione il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, secondo il quale sarebbe sufficiente accontentarsi del secondo progetto di riammodernamento invece di non avere nulla. Secondo i tecnici dell'ANAS nel 2020 partirà lo studio di infattibilità tecnico-economica del progetto di riammodernamento dell'attuale strada statale che collega Nicosia a Leonforte. Il viceministro Cancelleri non ha deciso quale dei due progetti il governo nazionale vorrà portare avanti. Sarà un tavolo tecnico con la presenza delle amministrazioni comunali coinvolte nell'opera. Il ministro dell'infrastruttura e l'ANAS a decidere il futuro dei lotti C. Il destino però sembra già segnato. L'ANAS ha dichiarato la sua contrarietà al progetto dello scorrimento veloce, riduto troppo costoso e poco trafficato. Le amministrazioni con in testa e il sindaco di Nicosia sarebbero orientate sulla stessa idea e lo stesso viceministro Cancelleri non sembra troppo convinto del progetto dell'OTC, soprattutto per ragioni economiche. Il sogno di vedere un giorno completare una strada nord-sud con collegamenti veloci verso Catania e verso Palermo rimarrà per Nicosia un sogno sulla carta. Chi voleva capire in cosa consiste la questione meridionale e la retratezza del sud rispetto al nord, anche in termini di grandi opere, poteva tranquillamente assistere allo spettacolo tenusi nell'aula consigliare di Nicosia. Accontentarsi è il termine a cui le popolazioni del sud siciliane e soprattutto dell'entroterra devono abituarsi. Meglio poco che nulla, accontentarsi delle briciole e nascondersi sempre dietro la frase non ci sono i soldi. Un pensiero mediocre che non crea sviluppo, parola troppo abusata nelle campagne elettorali e non le visite istituzionali, ma che all'atto pratico rimane un semplice termine a cui non si dà mai seguito. Una politica poco coraggiosa, senza prospettiva, che si arrende troppo facilmente ai diktat dei tecnici incapaci di decidere e se no fa prende sempre la strada più breve e semplice. Se c'è un crollo di una strada meglio chiuderla che ripararla, tanto non ci sono i soldi. A questo abbiamo assistito negli ultimi anni nell'intera provincia di Enna. Meglio dare il contentino e far capire che comunque l'opera che si realizzerà è la stessa, ma la stessa non è. E nel frattempo l'entroterra si svuota e quel poco di speranza che si aveva nella realizzazione definitiva di quest'opera svanisce come un sogno appena svegliati.